Noi dobbiamo ancora capire con l'amministrazione, ci volete una città turistica o una città spenta? Turistica e commerciale? Commerciale e che attrae? Cioè Pescara ormai è veramente morta. La movida pescarese va contenuta, la sentenza del TAR parla chiaro in fatto di tutela della salute e i rumori devono rispettare le soglie che secondo i dati ARTA vengono puntualmente superate. I tavolini in Piazza Musi sono causa importante del cosiddetto rumore antropico, dunque la scelta del sindaco Carlo Masci di dimezzarli, provvedimento preso circa un anno fa, incassa il sì del Tribunale amministrativo. Sono stati bocciati i ricorsi presentati dai gestori dei locali, la priorità assoluta è, detta in altri termini, il riposo dei residenti. Siamo molto arrabbiati, siamo dispiaciuti, siamo impoveriti del lavoro, di quello che può essere anche l'entusiasmo di affrontare la stagione estiva lavorando e aspettando turisti e i nostri cittadini. Pescara ormai è spenta, tutte le strade del centro, Piazza Musi in primis, ma da lì non c'è più quel vocio e anche quella che sicuramente diciamo rumore antropico, ma è un vocio carino, bello, che tu vedi la sera alle 19, alle 20, le strade del centro di Pescara prima erano piene, ora sono deserte, non si va più nei locali per poter fare neanche un aperitivo. Con la stagione alle porte, gli esercenti in ogni caso mettono da parte qualche scoraggiamento e annunciano la prossima mossa. Noi abbiamo fatto già degli incontri con i clienti, riteniamo che ci siano tutti i presupposti per andare a impugnare questa sentenza e fare ricorso al Consiglio di Stato. Va detto che ovviamente le sentenze si rispettano, si rispetta il lavoro che hanno fatto i magistrati. Poi ci sono delle valutazioni giuridiche che divergono, come in questo caso, noi riteniamo che il problema dell'inquinamento acustico c'è, ma la determina è stata motivata male dal Comune. Riteniamo che la sentenza del Tar non abbia preso nella dovuta considerazione tutte le problematiche e le eccezioni formali che sono state sollevate nel ricorso. Per questo, crediamo che ci siano tutti i presupposti per andare a sentire un parere diverso.